Capitolo 15 Pioveva da tre giorni. Alle quattro del pomeriggio del terzo giorno, Jeremiah sclerò. Non era tipo da stare chiuso in casa, era sempre in movimento, sempre pronto ad andare in qualche nuovo posto. Disse che non ne poteva più e domandò se qualcuno aveva voglia di andare al cinema. C'era soltanto un cinema, Cousins Beach, a parte il drive-in, ed era in un centro commerciale. Conrad era in camera sua e quando Jeremiah salì a chiedergli di venire, lui rispose di no. Trascorreva un sacco di tempo da solo in camera sua e si vedeva che Stephen ne soffriva. Sarebbe presto partito con nostro padre per scegliere l'università, ma Conrad sembrava fregarsene. Quando Conrad non era al lavoro, era troppo preso a strimpellare la chitarra e ad ascoltare la musica. Perciò andammo io, Jeremiah e Stephen. Li convinsi a guardare una commedia romantica su due persone che portando a spasso il cane compievano lo stesso tragetto e si innamoravano. Era l'unica cosa che davano. Mancava ancora un'ora all'inizio di un altro film. Dopo cinque minuti di proiezione, Stephen si alzò in piedi disgustato e disse «Io non ce la faccio a guardarlo! Tu che fai, Jeremiah? Vieni!» «No», rispose lui. «Resto con Belli». Stephen parve sorpreso, si strinse nelle spalle e replicò «Ci rivediamo quando finisce». Anch'io ero sorpresa. In effetti, quel film era orrendo. Non molto tempo dopo che Stephen se ne fu andato, un tizio altissimo si sedette proprio di fronte a me. «Facciamo cambio di posto», mi sussurrò Jeremiah. Pensai di fingere che non importasse, ma poi cambiai idea. Si trattava di Jeremiah, dopo tutto. Non era necessario che facessi l'educata. Così accettai e ci scambiammo di posto. Per vedere lo schermo, Jeremiah doveva allungare il collo verso destra e sporgersi verso di me. I suoi capelli profumavano di peramela, lo shampoo costoso che usava Susanna. Era buffo. Ormai Jeremiah era un giocatore di football grande e grosso, eppure aveva un odore dolcissimo. Ogni volta che si sporgeva verso di me, respiravo il profumo dei suoi capelli. Desiderai che i miei avessero quello stesso profumo. A metà del film, Jeremiah si alzò d'improvviso. Si allontanò per qualche minuto. Quando riapparve, aveva una gassosa e un pacchetto di dolciumi. Allungai la mano per bere un sorso di gassosa, ma mancavano le cannocce. «Ti sei dimenticato le cannocce», gli dissi. Lui aprì il pacchetto di dolciumi e staccò con i denti due pezzi di liquirizia. Poi li mise nel bicchiere con un ampio sorriso. Era così orgoglioso di sé. Non mi ero accorta che erano le liquirizie cave. Noi le usavamo sempre come cannocce. Sorseggiammo la gazzosa in contemporanea, come in una pubblicità della Coca-Cola degli anni cinquanta, con le teste piegate e le fronti che quasi si toccavano. Mi domandai se la gente pensasse che il nostro era un appuntamento amoroso. Jeremiah mi guardò e poi sorrise e di colpo ebbi un pensiero folle. Pensai «Geremia Fisher vuole baciarmi». Lo so, era folle. Si trattava di Jeremiah. Non mi aveva mai guardata in quel modo. E poi a me piaceva Conrad. Anche quando era lunatico e inavvicinabile come in quel periodo, mi era sempre piaciuto Conrad. Non avevo mai preso in considerazione Jeremiah dal momento che c'era Conrad. E ovviamente Jeremiah non mi aveva mai guardato in quel modo prima d'allora. Io ero sua amica. La compagna con cui guardava i film, la ragazza con cui condivideva il bagno e i segreti. Io non ero la ragazza che avrebbe baciato. Java. Shit. Wha